Ciao a tutte ragazze e benvenuta nel mio video offiz Oggi indosso un maione con le spumature grigie a mare Poi qui c'è il colletto rosso con i colletti neri e anche i bostini sono uguali Poi nella parte interiore indosso questa gomma in coppella nera E delle normalissime collezioni nere di sotto Come cappotto Indosso questo cappotto lungo E con le maniche nere sono trattuntate Come scarpe indosso questi vecchi di camoscio Con il pacco impurato Come accessori sto indossando soltanto questo anello con gli infiniti Ma come borsa utilizzerò una pochettina Questa qua Anche se io di solito utilizzo valigie a posto di borsa Comunque questo era l'outfit Spero vi sia piaciuto Al prossimo video